Buon pomeriggio dallo stadio polivalente Pasquale Stanganelli buon pomeriggio da Gioiese Trapani. L'ok dato ai due assistenti e si parte. Doppio tentativo di giocata all'interno dell'area rigore poi il tiro verso la porta di Antonini con la maglia numero 7 è di Marcel Basile. Il primo tiro verso la porta del Trapani può aprire sul lato di sinistra dove va a salire Sartore, Sartore, Sartore se la devi vedere contro Elia lo salta poi il colpo a terra il calcio di rigore netto. Fallo che si ha nettissimo proprio sposta il pallone entra adesso Faiet non trova il pallone ma trova le gambe su Sartore il fischio parte Bollino la parata Mauro Bollino può effettuare il cross al limite dell'area rigore il tiro di Bollino e c'è la parata da parte di Smith cross all'interno dell'area rigore la palla che entra nel cuore passa ma che a staccare di testa nuvolo di giocatori Gelli la controlla la gira di nuovo per Bollino che può calciare tre uovini davanti a Bollino sale Maricosu a libertà di poter avanzare salta un avversario ancora Maricosu la gira verso Bollino che la mette a terra Bollino nell'uno contro uno Bollino entra in area rigore il cross all'interno dell'area rigore va a cercare il pallone con la testa Giovanni sbrissa ma non riesce a trovare la porta tutto è pronto per i secondi 45 minuti di gioco partiti limite dell'area di rigore la palla è buona all'indirizzo ancora di Sartore che entra in area di rigore il tiro di Sartore la parata da parte di Smith prima insidia del Trapani sale ancora Gelli cerca un compagno la palla è centralmente finta Bollino ma dietro di lui non c'è nessuno poi parla per sbrissa sbrissa limite dell'area rigore va a calciare Giovanni sbrissa e sfiora l'incrocio dei pali il pallone calciato da Giovanni sbrissa si apre la difesa della gioiese sbrissa tenta con il piatto e la palla si alza sopra la traversa con best balla come trequartista sale Samaghe la giocata di Samaghe buona Samaghe all'interno dell'area di rigore mette il pallone mette il pallone in porta boom boom Samaghe il Trapani è in vantaggio eccolo il passaggio di Bollino in profondità la palla che passa Samaghe riesce a vincere il contrasto con l'avversario poi mette un cross verso Sartore ciò che più conta è che il pallone termina in rete alla fine arriva Sartore a metterla buona per Balla che può partire in campo aperto Balla 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 al limite dell'area rigore le finte di Balla Balla può giocata in campo aperto da parte di Balla che parte il controllo a tagliare l'avversario di turno guarda il portiere e la mette dove Smith non può arrivare Balla lunga non riesce a controllare la Balla e allora si riporta in avanti ancora la gioiese c'è il gol c'è il gol della gioiese buono e buona la rivediamo tentativo di controllo da parte di Balla la palla che passa il lancio da destra verso sinistra Lipins fuori posizione palla sopra e il 2 a 1 finisce qui finisce qui il Trapani passa anche contro la gioiese per 2 a 1